Le sue condizioni di salute sono incompatibili con la detenzione in carcere e questo è il motivo per il quale il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha deciso di concedere i domiciliari a Rodolfo Fiesoli, il profeta della comunità mugellana del Forteto, condannato a 15 anni e 10 mesi di carcere per abusi sui minori con situazioni familiari e problematiche affidate alla comunità di cui era stato il fondatore nel 1977. Fiesoli, che ha superato i 70 anni di età, era stato condotto nella carcere di Padova nella novembre 2019, tuttavia il Tribunale di Sorveglianza ha deciso di scarcerarlo anticipatamente per il suo stato di salute disponendo il trasferimento in un RSA nel Padovano. Fiesoli venne arrestato nel dicembre del 2011 con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamenti e il 17 giugno 2015 il Tribunale di Firenze lo condannò a 17 anni e mezzo ridotti a 15 anni e 10 mesi in appello nel luglio 2016. A fine 2017 la Corte di Cassazione confermò la sentenza rendendo definitiva la condanna. Ma in realtà le devianze di Fiesoli gli erano già costate un arresto nel 1978, appena un anno dopo la fondazione della comunità. In quel caso rimase in carcere per quasi tre mesi per violenza sessuale e maltrattamenti. Nel 1985 divenne definitiva una prima condanna a due anni per quegli episodi, dopo la quale però il profeta tornò a guidare il forteto a cui continuarono ad essere affidati bambini e ragazzi.